CLS è una delle realtà di riferimento più importanti aderenti a Conf Cooperative che nel tempo ha sviluppato una componente di innovazione tecnologica e di impatto ambientale sostanzialmente unica a livello nazionale che oggi arriva a Perugia e a Perugia arriva con una grande competenza nel gestire servizi a basso impatto ambientale che Dio sa quanto sono utili per costruire comunità più vivibili per i nostri figli e per i nostri territori e soprattutto arriva con la cultura cooperativa. Perché Perugia? Perché il nostro progetto dieci anni fa parte con la collaborazione di Perugia, parte con la collaborazione di Ancona, parte con la collaborazione di Roma. Cioè tre città si sono messe in discussione facendo il loro tradizionale lavoro di attività logistica presso terzi magazzini e dieci anni fa hanno avuto il colpo di reni dell'orgoglio, della dignità e dice perché non facciamo una filiera nostra di servizio? Perché dobbiamo continuare solo presso terzi? E questo ha fatto sì che hanno cominciato a pensare e finalmente uomini e donne che hanno pensato, hanno ragionato, è uscito fuori l'orgoglio, la dignità e hanno cominciato a studiare dei progetti per la città. Oggi con tutto anche lo sviluppo dell'e-commerce la logistica è uno di quei servizi che ha subito l'impulso maggiore, non solo per le filiere dell'e-commerce ma l'evoluzione della logistica sta riguardando anche tutto il mondo di industria 4.0 diventando parte integrante del processo produttivo. Questa rivoluzione non può essere trascurata da chi si occupa di governo delle città perché un modo nuovo di fare la spesa tende a impattare sempre più sugli stili di vita delle persone ma anche sui modelli di logistica urbana.